musica bella ragazze ben ritrovati nel mio canale cura 93 allora ripetiamo il monomedale of honor warfighter oggi pensate che è la quarta volta che provo a partire con questo cazzo di gioco non so perché ci siano problemi di server comunque sia non mi fa entrare una cazzo di partita poi ditemi che non è un gioco di merda proprio per questo comunque si aspettate un attimo all'ora mettiamo bene la telecamera perfetto andiamo su trova partita speriamo di trovarla velocemente partita veloce andiamo su deathmatch a squadra e speriamo di avere buona fortuna ovviamente grandissimi ora ma la trova immediatamente la partita quindi che cosa dire mettiamoci le cuffie e partiamo subito con il gameplay sperando di fare una bella partita per soddisfare chi sa di guardare il mio video sa a chi mi riferisco e sa che faccio questo video solo per lui faccio il tris stavolta la terza volta che rientro su medal of honor warfighter fare una partitina speriamo dai una due partitine giusto per divertire per vedere sto gioco comunque si mettiamoci le cuffie partiamo subito dai 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 allora vediamo un pochino ok siamo in questi due cosa stanno facendo bello ovviamente sono sempre in squadra solo ragazzi mettiamoci comando con lo svedese non so che arma se mi fa entrare grazie 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 no ragazzi non mi fa neanche entrare oh ah dimmi ho troppo di tempo grazie ole dai allora che cazzo cos'è questo schifo no ragazzi no ragazzi guardate guardate quanto sta laggando ragazzi ma guardate come tiene la mia arma no ragazzi veramente allucinato sto gioco no ragazzi che laggare guardate allora non mi si è solo bloccato bello bello buono ragazzi allora io provo a uscire perché mi sa che mi si è flippata l'xbox eh si mi si è flippata l'xbox ragazzi io chiudo e accendo bello 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 raga partiamo subito bene comunque si tagliamo questo pezzo e andiamo direttamente alla partita nuovamente eccoci nuovamente al menu riproviamo trova partita non so se avete visto ovviamente io ho ripreso quello che quello che avete potuto vedere che ha registrato l'hdpvr è come se si fosse bloccata completamente l'immagine vabbè io vado di nuovo su deathmatch a squadra e riprovo speriamo di trovare immediatamente una partita ovviamente non la ritrovo immediatamente ma se dovesse rifarmi una cosa del genere come sempre io lo dico due tentativi chiudo il video perché è veramente uno schifo questa cosa non può capitare in un video una cosa del genere ragazzi a me veramente mi mette tristezza io ovviamente lo pubblico perché ve lo devo far vedere per forza per farvi capire che cazzo di gioco hanno creato quelli della dungeon close veramente col frostbite 2 col frostbite come cazzo si chiama io sono veramente scioccato dalle cagate che hanno fatto in questo cazzo di gioco e i server di merda che dobbiamo siamo costretti in cui siamo costretti a giocare ci ritroviamo nella nostra parita volete scommettere ah questa volta mi hai messo in squadra con qualcuno grazie ovviamente c'è caldo andiamo su comando se sentite un rumore ragazzi è l'avventura perché mi sto veramente sciogliendo c'è veramente tantissimo caldo ovviamente se magari mi fai ricomparire grazie grazie mi fai ricomparire grazie ma cambia classe magari no armo bisogna di cambiare arma ragazzi seleziona arma no non hai capito no non mi dia raga me l'hanno vabbè dai allora io metto il mirino ottico ragazzi che ovviamente è bloccato perché mi hai bloccato il mirino no mettiamo questo ok arma dai cazzo lentissimo mirino ottico voglio il mirino bello bello ok scusa scusa zio ma arma cambiarla no troppo difficile ragazzi troppo difficile cambiare arma ma stiamo scherzando cioè ma stiamo scherzando raga troppo difficile cioè è una cosa impossibile bello va bene va bene ragazzi non ho voglia di farvi aspettare comunque sia ancora guardate come cazzo tiene l'arma ragazzi ma vi sembra possibile una cosa del genere cioè ditemelo voi per me non è possibile che un solato tenga l'arma in quel modo ragazzi subito si muove cazzo ovviamente non muoiono ah non ne ho ucciso neanche uno ragazzi non ne ho ucciso neanche uno pensavo di averne ucciso almeno uno di due invece niente raga allora andiamo avanti vediamo un pochino se ovviamente lui tiene sempre l'arma in questo modo non so perché mi scomparsa la mia arma ragazzi ma che ma ovviamente ma non so se avete visto io ve lo faccio rivedere ragazzi siamo tre contro cinquanta è probabile continuare a giocare perché veramente ragazzi devo farvi capire la tristezza di questo gioco mi fa neanche rientrare ragazzi veramente mi fa neanche rientrare io non so più che dire veramente sono triste sto diventando veramente triste giocando questo gioco di merda ragazzi ma proprio non morire vedi un po' di fede dai zio vabbè ragazzi purtroppo il gioco è questo io mi devo accontentare la faccio per divertirvi mi sto anche in cazzo questa canzone non è d'aiuto è molto simpatico come penso non è adatta a questo gioco oh tranquillo non morire morisci dopo trent'anni allora proviamo stanzione sono mezzo a molto ragazzi io provo no raga finito finito ha cresciato un'altra volta questa è la seconda volta che crescio io veramente lo mollo quindi che dire allora chiudiamola qui il video veramente perché ci faccio la figura del coglione alla fine siete voi a vedere guardate il controller ragazzi io ve lo faccio vedere guardate il controller ma stiamo scherzando vabbè ragazzi io sinceramente non mi sento in grado di continuare a farvi vedere sto video veramente il gioco è una merda lo chiederò qui spero che mettono a posto questa merdata perché è uno schifo è una stupida il cazzo ovviamente continua a vibrare è uno schifo mi fa veramente girare il cazzo in una maniera assurda che dire ragazzi se il video vi è piaciuto se avete capito questo gioco è una merda mi avete mi piace sicuramente l'avete apprezzato se avete apprezzato il mio sforzo di poter giocare a questa cagata da Cure 93 è tutto ci vediamo la prossima oh dai ci vediamo la prossima il minerale oh dai Самonella